Buongiorno a tutti, siamo andando a Sanremo, finalmente è arrivato il momento, tutto è la compricoletta, c'è il maxetto, c'è la Ramona, c'è la Dina, c'è la Vateria e c'è il pazzo qua, dai, comunque a questo punto, dato che stiamo viaggiando, facciamo, come si fanno le domande, come funzionano le domande, come sono le domande? Voi domande, voi fate domande, io te lo rispondo, ok, domani apriremo questo gruppo whatsapp, così vi dice il signor, il buon max, domani, stiamo recuperando un telefono, una scheda, domani facciamo tutto, ok, quindi non è col mio telefono, già, è una cosa, questa è una domanda a cui potrà rispondere il nostro dolcissimo Pachi, eccomi, me ne occupo io, scusa se ti ho messo il trucco, vabbè facciamo così, eccolo, così ce l'ho io, vai, metteremo dei contenuti di riscaldamento, il mio metodo, è un metodo Art Voice Ecco, allora, lei è la mia stylist, quindi sarà lei a TV, quale stilista mi veste? Non si può dire Guardate, lei è sempre così Mi piacciono tutte, però Andromeda Ovviamente niente canzoni d'amore Rapper criminale Sport Quella con madame Non viene un'altra polo, bella, bella Fabio Sogni non tuoi Bravi a cadere Bravi a cadere No, indosserò un solo brand Adesso arrivo, adesso saremo, io già adesso, già stasera indosserò questo brand, lo indosserò sempre, la mattina, il pomeriggio, la sera, ed è un brand che sognavo da una vita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti